Ah ok, vedete che il professore sorride vicino a me? No, dicevi una domanda, era? Era cattivissima, una domanda cattiva. No, ma cosa, no, cosa, qual è la cosa che i giudici guardano per valutare una ragazza? Cioè è una cosa che devo dire, sì, sì, no, no, io me lo ricordo, oh no, già che proprio a me questa domanda, tutti gli altri cosa vuoi nella vita, cosa studi, cose facili, a noi è la pace del mondo, a me è una domanda difficile, è antipatica, brutta è anche antipatica. Grazie. No, io ti ho detto se ti ricordi, se siete qua e vuol dire che avete vinto delle altre finali e avete un particolare che vi fa risaltare rispetto a noi. Non l'ha detta così bene, l'ha detta in maniera più cattiva per il giorno e già uno aveva l'ansia, quindi grazie mille, grazie.